Domani abbiamo un altro appuntamento per noi molto importante perché il tema dei diritti è fondamentale perché riguarda tutti i lavoratori qualunque sia il loro contratto di lavoro, riguarda i 24 milioni di italiani a seconda della tipologia di contratto, però abbiamo voluto fare un'altra iniziativa anche a conclusione della prima parte della campagna della raccolta delle firme che è quella di parlare del lavoro, della sua quantità, della sua qualità e della sua durata e quindi domani faremo un'iniziativa Palermo 3.0 che vuole parlare dei temi del settore manifatturiero nella nostra provincia e in particolar modo delle tre aree industriali di Palermo, Carini e Termini Merese che sono in una condizione veramente disastrata per cui noi vogliamo mettere al centro il tema delle produzioni e quelle cose che vogliamo fare perché questo può permettere di dare lavoro alle persone che non ne hanno e che in questi anni di crisi ne hanno perso in migliaia di persone.